Ben trovati all'appuntamento con Detto il Consiglio. Il nostro incontro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Per questo nostro appuntamento abbiamo scelto due temi. Parliamo dell'Armadio della Memoria e il ricordo della Costa Concordia, il Consiglio regionale in diretta streaming per commemorare la tragedia. E poi parleremo di quelle che sono le priorità da affrontare proprio dal Consiglio regionale nel 2022. Il primo tema ci riporta indietro nel tempo al disastro della Costa Concordia. A distanza di 10 anni da questo evento il Consiglio regionale ha ricordato il disastro, l'ha fatto con una mattinata di approfondimento un incontro in diretta streaming a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, il Senatore Gregorio De Falco, capitano di Fregata all'epoca, capo dell'associazione operativa della Capitaneria di Porto di Livorno. C'era anche il Presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola, la Direttrice della Nazione e il Direttore del Tirreno. E questa iniziativa è rientrata nell'ambito del progetto Armadio della Memoria, progetto avviato nel 2017, a cui è stata dedicata proprio un'apposita legge regionale per raccogliere la documentazione sulle stragi del Mobi Prince della stazione ferroviaria di Via Reggio appunto della Costa Concordia. Ricordiamo che erano le 21 e 45 del 13 gennaio del 2012 quando la nave della compagnia Costa Crociere, salpata da Civitavecchia e diretta a Savona, urtò degli scogli a sud-est dell'isola del Giglio per poi adagiarsi e ribaltarsi sul fondale a pochi passi dal porto. Il 13 gennaio del 2012 ricordiamo che morirono 32 persone tra equipaggio e passeggeri. Mazzeo ha ricordato in questo incontro la generosità dei gigliesi e i direttori della Nazione del Tirreno hanno posto invece l'accento sul ruolo che l'informazione locale ebbe in quelle circostanze. Riviviamo questo momento di ricordo in diretta streaming da parte del Consiglio regionale della Toscana. Oggi noi siamo qui per ricordare, per aprire il nostro Armadio della Memoria. È stata una scelta che abbiamo voluto fortemente nel 2017. consentitemi di ringraziare Leonardo Marras. Oggi non può essere insieme a noi. All'epoca era presidente della provincia di Grosseto e partecipò attivamente a quelle giornate e ha voluto fortemente quell'armadio, quell'armadio della memoria che serve a tenere insieme quello che è stato e che non vogliamo riaccada più. Noi abbiamo voluto, abbiamo fatto questa scelta nella scorsa legislatura che è quella di raccogliere testimonianze, video, immagini tutto in formato cartaceo ma anche digitale. Lo abbiamo fatto per la strage della costa Concordia, lo abbiamo fatto per quello che è accaduto nel Moby Prince nel 1991 per la strage di Vareggio del 2009 e abbiamo un luogo, un luogo fisico dove i cittadini della Toscana possono andare a toccare con mano, purtroppo, la disgrazia e le tragedie di quei giorni e fare in modo che si crei una cultura collettiva perché quello che è accaduto non accada mai più. Io ricordo quelle ore, quei giorni, quasi come se fossero, diciamo, ieri. Ho vissuto quelle giornate guardando la televisione, ascoltando le voci di tante donne e di tanti uomini che erano accolti, sono stati accolti da una comunità come quella del Giglio, a cui va un grazie sincero per tutto quello che hanno fatto, per la capacità di rappresentare il popolo della Toscana, un popolo aperto, accogliente, un popolo che riesce anche nelle difficoltà del tempo che stavano vivendo a dare segnali e messaggi di speranza. Credo che oggi ricordare, in questo momento, essere qui, confrontarci debba servire a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Tutti abbiamo negli occhi la pancia della Concordia appoggiata sugli scogli dell'isola. Quelle immagini fecero letteralmente il giro del mondo. L'isola del Giglio e quella costa meravigliosa di fronte all'Argentario si risvegliarono nel dramma. Scialuppe che facevano la spola con Giglio Porto per raccogliere le persone che scendevano nel buio delle scalette sullo scafo. La paura, il gelo, la preoccupazione di non sapere cosa stava accadendo. A volte risentendo le parole di chi in quel momento guidava la Concordia, la sottovalutazione anche o almeno il voler cercare di mandare messaggi rassicuranti all'esterno che in quel momento forse non era la soluzione migliore perché non davano a chi doveva intervenire chiarezza di tutto quello che stava accadendo. Da quel momento quella tragedia ha fatto alzare l'asticella dell'attenzione sulla sicurezza delle navi, di tutte le flotte internazionali. Purtroppo quel relitto per mesi entrò a far parte del paesaggio della nostra costa toscana. Io penso che oggi essere qui vuol dire non dimenticare, vuol dire pensare di mettere in campo ancora azioni maggiori di sicurezza e questo riguarda la parte marittima ma anche quello che è accaduto con la strage di Viareggio sulla sicurezza ferroviaria. Il tempo che è intercorso ci ha allontanati dai dettagli e questo ci consente appunto di rendere al meglio il senso di questa vostra lodevole iniziativa l'armadio della memoria perché per tutte e tre le vicende Moby Prince, Viareggio 2009 e Concordia adesso abbiamo quel distacco temporale che ci permette di vedere non già soltanto i vari punti di dettaglio che sono significativi sicuramente per giudicare, valutare le cose, la responsabilità, le circostanze di fatto ma ci consente di vedere anche l'insieme, diciamo, il fenomeno complessivamente che si è sviluppato. Quella notte si è verificata una tragedia 32 morti è stato detto è stato detto che a bordo di quella nave c'erano oltre 4200 persone ma ciò che è importante secondo me è che oggi si può anche capire che non fu soltanto una tragedia marittima anzi per caso si è trattato di una tragedia marittima quella vicenda è la vicenda che si è creata per un'azione scellerata come fu giustamente definita all'epoca dal procuratore capo Verusio cioè quella vicenda lì per pur accidenti si è verificato a bordo di la nave non è legata alla tecnica della navigazione anzi è una vicenda irripetibile nel senso che senza per così dire lo sfasamento che ci fu nella persona del comandante tra il proprio ruolo tra gli obblighi e i fini del proprio ruolo di comandante e la sovrapposizione che ci fu con il proprio interesse non si sarebbe verificato tutto questo se avesse tenuto presente qual era il ruolo di comandante in quella vicenda avrebbe ovviamente avuto chiari i fini del proprio agire e avrebbe quindi cominciato una operazione di emergenza a bordo in tempi consoni e adeguati a salvare le persone la mancanza del comandante cioè del comando a bordo ha fatto sì che la regola fosse rigida ora quella regola cioè che ciascuna scialuppa può contenere 150 persone ha un senso perché una scialuppa è dotata di vivere acqua spazio sufficiente per consentire a 150 persone di vivere di sopravvivere per esempio in mezzo al Mediterraneo nell'oceano Pacifico nell'Atlantico ma a distanza di 36 metri dalla costa l'autorità cioè il comandante avrebbe ben potuto responsabilmente assumere su di sé l'onere di derogare quella norma e di consentire l'imbarco di 200 250 300 persone fino alla capienza fisica e avrebbe quindi potuto contribuire al salvataggio delle persone ecco cosa avrebbe potuto fare tornando a bordo dell'Arna Quello che abbiamo visto è anche stato il primo appuntamento ufficiale diciamo del Consiglio regionale della Toscana perché facciamo un passo indietro nell'ultima seduta prima della pausa natalizia quella del 21 di dicembre 22 e 23 i consiglieri sono stati impegnati nell'approvazione del bilancio di previsione finanziaria del triennio 2022 2023 2024 ma è stato anche un momento per comprendere quali saranno le priorità per il nuovo anno e i primi argomenti da affrontare alla ripresa dei lavori il mio è un aspicio che il governo si renda conto di questo sforzo e preveda le risorse perché i nostri hub i nostri operatori siano il più possibile presenti operativi senza costringerci a dover pensare a dove troviamo i soldi per poter tenere in piedi quello che è il sistema sanitario regionale che è quello che al di là di tutto quello che possiamo pensare o parlare o esprimere ma nei fatti è il sistema attraverso cui si sono fatte le vaccinazioni e si è dato risposta a quello che è una struttura quella sanitaria della Toscana che è veramente posta come un esempio io devo dire che insomma come regione voglio ringraziare il presidente Gianni la giunta per il lavoro importante che hanno svolto siamo riusciti a gestire meglio di tante altre regioni questo tempo difficile lo abbiamo fatto avendo il tasso di vaccinazione più alto d'Italia lo abbiamo fatto investendo nella sanità pubblica è evidente che ci ritroviamo di fronte a una pandemia che non tende a finire ma avendo lavorato e avendo costruito le condizioni per gestire al meglio l'emergenza sanitaria guardiamo con speranza e ottimismo al futuro il consiglio riparte da dove siamo arrivati dall'approvazione di un bilancio importante e poi con dire tutte quelli che saranno gli atti che serviranno per l'attuazione di questo bilancio e miglioramenti normativi che saranno necessari per quelle che sono le priorità che erano state della campagna elettorale che dopo un anno ancora permangono vale a dire la salute e il lavoro è evidente che dovremo serrare i ritmi rispetto alle nuove programmazioni proprio oggi abbiamo discusso sui nuovi progetti che verranno finanziati penso per quanto riguarda l'edilizia scolastica penso alle risorse che in questo bilancio inseriremo per tutti quei progetti che invece sono fermi perché c'è stato l'aumento delle materie prime penso a tante questioni che possono ovviamente partire subito come le progettazioni dei comuni rispetto ai loro progetti e quindi servirà poi dare una semplificazione penso della normativa urbanistica noi chiederemo una votazione della discussione della nostra legge che semplifica l'urbanistica nei comuni cioè fare tutte quelle cose propedeutiche che favoriscono la ripresa economica di rafforzare la sanità territoriale perché se è vero che il covid ha profondamente destabilizzato tutto quello che è l'impianto della nostra struttura regionale è vero anche che sono emerse anche quelle criticità che noi denunciavamo che sarebbero avvenute quando venne fatta la grande riforma del 2015 la distruzione quello che c'è stato della sanità territoriale ha molto inficiato sicuramente anche l'attività ospedaliera quindi riteniamo che si debba investire molto su questo sulle nuove assunzioni su ripristinare una sanità territoriale degna di questo nome quindi che sia in grado di seguire il paziente fuori dal momento critico che è quello invece ospedaliero che dovrebbe essere riservato temporalmente soltanto a una fase molto breve di tutta l'assistenza e poi la scuola e poi l'ambiente ci sono molti settori che secondo me hanno bisogno di essere potenziati la sanità è uno di quelli su cui bisogna fare una particolare attenzione assolutamente sanità sociale ambiente perché sappiamo di essere ancora molto indietro e crediamo che comunque insomma soprattutto sul piano rifiuti lo aspettiamo ormai da più di una legislatura e siamo estremamente indietro e i cittadini pagano fior fior di tariffe per quanto riguarda i rifiuti anche rispetto alle altre regioni d'Italia dobbiamo pensare di lavorare anche su tutto quello che è il mondo del lavoro lo sviluppo del territorio abbiamo una regione che è bellissima ma che se non riusciamo a valorizzarla e se non riusciamo ad attrarre anche dall'estero tutti i capitali tutte quelle aziende che possono venire a investire da noi creando posti di lavoro ovviamente avremo difficoltà a ripartire questo si fa anche sviluppando le infrastrutture perché la regione toscana è una regione molto grande ma spesso ha delle infrastrutture che sono vecchie di cento anni beh se questi sono i presupposti facciamo una lotteria prendiamo un sacco della tombola tiriamo su un argomento tutti vanno bene visto che questo bilancio fondamentalmente rimane un libro bianco da scrivere passo dopo passo per noi i temi sono gli stessi quindi abbiamo sempre citato turismo aiuti al settore del turismo aiuti allo sviluppo economico tema del sociale vicinanza a chi ha bisogno e soprattutto occupazione e lavoro perché senza occupazione e lavoro non si riparte sono guarda caso le quattro aree su cui questo bilancio fa i tagli lineari cioè questo bilancio a queste quattro aree taglia poi ci dicono che con l'emendamento della giunta cambierà qualcosa ma l'emendamento della giunta ancora non esiste quindi ad ora continuiamo a tagliare su quelli che sono i settori sui quali invece avremmo dovuto investire ricordiamo che la prima seduta d'aula è fissata per martedì 18 gennaio e già proprio fra sette giorni vi daremo conto anche appunto della prima seduta per tutti gli aggiornamenti per tutte le informazioni il sito internet di riferimento è www.inconsiglio.it vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'anno saremo insieme nei soliti orari e quindi vi aspetto fra sette giorni sempre qua dentro il consiglio Grazie a tutti Grazie a tutti.